Nome. Roberta. Daniela. Quanti anni hai? 24 a luglio 45. 47. Se tu fossi un colore? Il viola, con una punta di verde. Rosso, come la passione. E un animale? No, il mio si è stinto sicuramente, senza dubbio. Gatto! Genere di teatro preferito? La prosa. Di ricerca, mai scontato. L'opera teatrale che più ti piace? Non ce n'è una. No, mi piacciono tutte. Non ce n'è, non ne ho una preferita. La lettera di Paolo Nani, una nave scuola, però quando il De Pascalis mi fa il Sirano. Non capisco più niente. L'autore teatrale che vorresti mettere in scena? Cosa può essere? Vediamo. Oh, Brecht con la donna ebrea e magari la Comincini, che però non è un'autrice teatrale, ma è una regista, però vabbè. Siamo aperti a tutto. Un certo Harwood, poco conosciuto in Italia, ho qualcosa scritto da me prima o poi. Tre parole per descrivere andronauti, gruppo, teatro, ricerca. Allora, mi chiamo, credo essere gruppo, teatro, ricerca. Passione, energia, condivisione. Da quanto tempo sei andronauta? Sei anni. Tantissimo. Cosa fai con gli andronauti? Studiamo e ci divertiamo tantissimo. Cosa faccio? Il teatro. Chi è la più simpatica fra voi due? Io, indubbiamente. Se lei dice il contrario sta mentendo. Io, naturalmente. Che domanda. Chi spende più soldi? Non penso che nessuna delle due sia una grande spendacciona. Lei. Chi verrà arrestata prima? Lei, sicuramente. È questione di embolo che parte. Secondo me è una bella lotta. Chi disturba di più? Dipende da cosa intendiamo per disturbare. Ci sono missioni diverse. Sempre lei. La più puntuale alle prove? Ma io, certamente. Tasto delicato. Non brilliamo per puntualità. Qual è il tuo rito scaramantico prima di entrare in scena? Abbraccio i miei compagni di scena, forte, forte. E poi penso ma chi me l'ha fatto fare? Tutte le volte, tutte le volte. Allora, il mio... Io non ho un rito. Io faccio sempre questo. Indosso sempre qualcosa di viola. Andare a teatro, fare teatro. Perché? Perché è bello. Perché è troppo bello. Perché la vita senza arte è solo routine. Noia. E perché farlo con Andronauti Gruppo Teatro Ricerca? Perché siamo belli, simpatici, umili. Perché... perché siamo un gruppo. No, perché c'è uno scambio davvero simbiotico, naturale. E ci piace fare le cose insieme. Mi piace fare le cose insieme a loro. Recita una piccola battuta di teatro. Piccola, eh? C'è del marcio in Danimarca. Romeo, Romeo, perché sei tuo, Romeo? Rinnega il tuo nome. Rinnega il tuo padre. E io non sarò più una Capuleti. Abbiamo finito. Su, facci un bel saluto. Ciao! Ciao a tutti. Un grosso bacio.